e visto che è periodo di sanremo ciao a tutti e bentornati a radio noi adesso basta abbiamo deciso di ripetere un nostro format di grande successo che è quello dell'intervista doppia e sappiamo sia noi che voi come funziona e quindi cominciamo subito non sono solo a rompere le scatole questa volta c'è anche il buon Tommy ciao a tutti non abbiamo iniziato cantando per sbaglio cominciamo a conoscere i nostri ospiti nome Sofia Alexandra età 21 anni 17 passione canto musica cantateci il vostro nome allora Alexandra mi insegna a fare così con le mani che c'è un tutorial su internet Sofia il nostro non lo cantiamo per carità tranquilli cosa ci fate qua è una bella domanda noi siamo facciamo parte di un concorso che ci sarà il 4 febbraio a sanremo che si chiama discovery sanremo esatto e partecipiamo insieme con altri ragazzi e ad esempio per carlo e è arrivato anche secondo al santo di tribano dove avete cantato anche voi sì e quindi si può dire che andrete a sanremo sì sì vi abbiamo preso qualche ora prima della partenza hanno già le valigie pronte diamola così oddio sì ci vuole tempo per preparare la valigia io la preparo quando sono già partito di solito e Sofia parlaci un po di questo concorso che differenza c'è per esempio con sanremo giovani allora l'unica differenza secondo me da quello che che ho scoperto è che semplicemente è una cosa di staccata piuttosto che essere con saremo il festival è una cosa staccata però è comunque un'opportunità per noi giovani di farci conoscere a prescindere alexandra è la prima volta che entri nello studio di radio noi no perché è una storia lunga perché è anch'io all'inizio intervistato alcune persone poi però visto che insomma non è proprio nella mia indole cosa umana parlare con le persone cantare sì però esatto si spera non discriminarci così ma non ti facciamo parlare non va bene la gente ti fa cantare va bene è diverso la prossima intervista la facciamo cantare tutta quanta tutte domande cantate è più facile deve essere un'idea ok fatta se si può dire che canzone porterete a sanremo discovery o discovery sanremo è indifferente io porterò senso di ogni cosa di fabrizio moro non so se chiedere a sofia di dire il suo titolo in inglese o chiedere alexandra di dire il suo in italiano forse è meglio che chiedere alexandra domanda mainstream amadeus presenterà anche il vostro concorso o verrà almeno a salutarvi no andremo noi a salutarlo probabilmente andrete una sera dentro all'aristo ci potremmo pensare se ci fanno passare e questo me lo auguro da quanto vi state preparando questo concorso oddio allora io mi sono iscritta per ottobre novembre io invece da agosto però a livello di canzoni in questi due mesi insomma che succede a chi vince sanremo discovery cioè per caso si finisce a rappresentare l'italia all'eurovision discovery o magari sarebbe una bellissima cosa però no ci sarà solo solo tra virgolette una promozione in radio che comunque poi ci sono altri premi secondari come premi della critica per interpretazione ci sarà varia gente che ci ascolta che comunque come ponte di lancio è una buona base insomma e se qualcuno avesse voglia di lanciare l'eurovision discovery noi no allora per farvi notare facciamo un po di campagna elettorale facciamo tipo una campagna elettorale però l'ha fatti in modo originale quindi ha incontato bisogna dire che girano su internet dei post spam dappertutto con le loro facce e basta entrare nel post cercare un tasto giallo se non sbaglio schiacciare vota perché il vostro voto è importante e leggere l'intervista soprattutto parlando di campagna elettorale allora così tra virgolette la fate cantata e dovete convincere i vostri e nostri ascoltatori a votare per voi quindi cantando vi inventate qualcosa non vi faccio esempi sempre perché non so cantare e a voi la parola le lasciamo preparare ci vediamo tra sei ore votate per me non ve ne pentirete siamo noi o le telecamere che ti mettono a disagio loro possono noi no parliamo un po di voi quando avete capito che il canto serve stata la vostra passione beh io ho sempre fatto musica quindi all'inizio violino quindi c'è sempre stata la passione per la musica però canto l'ho iniziato l'anno scorso e sì insomma in realtà mi è sempre piaciuto cantare e ho deciso di iniziare canto sacrificando violino insomma sono felice di questo perché mi piace un sacco è una delle cose che mi fa sentire libera mi distoglie da tutti i miei problemi quindi è una cosa che mi appartiene anche per me fin da subito fin da quando sono bambina ho sempre cantato in chiesa ad esempio o comunque anche nei karaoke che facciamo ristorante e ristorante pizzeria il paiolo se volete venire a trovarci si ve lo consiglio certo e però mai avrei immaginato che sarei arrivata qua e devo ringraziare la mia insegnante soprattutto perché mi stanno un sacco di soddisfazioni e sono contenta ma principalmente lei che ci offre queste grandi opportunità e ci tira fuori anche la voce se è un vostro insomma ecco io non posso dire né sogno un obiettivo perché adesso lo capirete diventare un artista e dedicarsi al cento per cento alla musica è per voi un sogno o un obiettivo più un obiettivo tutti e due forse anche un po per la mia giovane età principalmente l'obiettivo intanto è continuare questo parallelismo perché insomma è un sogno un obiettivo allo stesso tempo cioè nel senso se un giorno potrò avere un qualcuno mi noterà e potrà avere un percorso nella musica sicuramente cogerò l'occasione al volo però allo stesso tempo voglio finire le superiori in primis e poi avere una laurea e un titolo di studio non ho l'età un po ce l'avete già detto ma studiate canto o vi allenate solo sotto la doccia entrambe entrambe è produttivo in entrambi i casi anche cantare sotto la doccia è una esercitazione molto importante dovreste farlo più spesso così vi allenate ma io sì canto sotto la doccia sono in serio ecco come tutti penso perché esatto chi dice che non canta sotto la doccia non è vero io sinceramente in pubblico perché si sente meno a disagio vero io lo so che tu lo fai in macchina se no qualche centro estivo qualche centro estivo a scorciacola artista che preferite oddio ce ne sono tanti parto con quelli che sono che altro la mia musa ispiratrice in questo percorso tipo laura posini liga bue gli artisti allora i miei artisti preferiti principalmente sono adele e i maneskin anche se in realtà i maneskin si allontanano un po dal mio genere musicale cioè che porto che faccio però mi piacciono un sacco perché mi danno un sacco di energia e anche ultimo per quanto le persone magari possano trovarlo a volte insomma triste a me piace un sacco perché è molto emotivo espressivo a proposito di maneskin ma magari sull'intervista abbiamo visto che avete scritto tutte e due su una delle risposte dell'intervista che gira online tutte e due avete risposto maneskin su una domanda devo andare al loro concerto ad aprilea quindi per questo amadeus verrà a prendervi in golf car domani sera a sanremo in questo tragitto in golf car quale degli artisti in gara vorreste con voi a bordo dell'amadeus mobile in gara possono essere tutti no no noemi per me noemi non mi dispiacerebbe orietta berti e perché no anche blanco ma mood ma ce ne sono vari che era anche io sceglierei orietta berti deve essere di compagnia potremmo cantare insieme ma lo sai giulio tu lo sai che per una mattina intera io sono stato rietta berti beh tipo qualche centimetro in più avevo aveva aveva il lago nel lago nel lago un bel vestito mi ricordo con la pari e la parrucca la parrucca avete un genere preferito ve lo chiedo perché a tommaso piace l'indie ma non tutto l'indie solo l'indie di tommaso tutti i nostri scontruttori stanno perché a me piace l'indie di tommaso di tommaso l'indie a tutti ma io principalmente il pop sì anch'io pop poi avendo detto anche i nostri cantanti si capisce un ottimo il genere musicale che insomma facciamo fanta sanremo di quest'anno secondo voi adesso confessiamo stiamo registrando dopo la prima serata quindi metà cantanti non li abbiamo ancora ascoltati se ti dico che non l'ho vista tutta ma almeno le canzoni che avete ascoltato hai sentito gianni morandi se le ho visti video ma non ho sentito le canzoni sei ora cosa che hai visto achille lauro ho visto allora no stamattina neanche achille lauro non ho ascoltato la canzone ci sono solo meme di achille lauro no l'ho visto perché ero curiosa di questo fatto del battesimo di lui così visto dalla scesa di dio ecco ero curiosa di vedere che stava allora se posso dire diciamo prima due in classifica anzi facciamo tre che mi sono piaciuti ai quali poi io in realtà ho messo un po più di come si dice ascolto di orecchio di speranza non so cosa vuoi dire c'è speranza nella mia lista dopo questa puntata la prima puntata di sanremo ci sono primo luogo e ma mood e blanco che hanno fatto una canzone meravigliosa poi metterei michele bravi e la rappresentante di vista ciao 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 tommaso ci canti un pezzetto di vista dato sappiamo che lo sai con le mani ciao ciao ma lì c'è un po più di volte con le mani sì ma io dico solo l'ultima questo di remetismo canoro c'è punto fondamentale quello che chiude tutte le nostre interviste quello che vi fa spegnere il video magari delle volte no scherzo allora la domanda è se non hanno già spento tranquilli potete solo fare di peggio adesso è arrivato il nostro solito momento tutorial cosa direste ad un piccolo cantante che vuole diventare bello e bravo come voi usa bene il diaframma usa bene il diaframma che è la parte fondamentale cos'è il diaframma è un muscolo e si trova qua sotto la cassata ok ok va bene promossa ed è importante perché senza quello tiri fuori la voce ma nel modo sbagliato perché l'aria dei polmoni bisogna spingerla dal basso verso l'alto e per questo dobbiamo ringraziare la susanna grazie usate il diaframma non abbiamo detto una cosa fondamentale dov'è che si può vedere saremo discovery allora i due canali principali che so sicuramente sono canal italia e boom channel poi ci sono altri canali secondari che però non sappiamo ancora e su delle radio vi faremo sapere tipo a che ora allora dobbiamo tenerci liberi e dovrebbe essere live quindi il 4 febbraio a luna e alle quattro alle quattro e quindi con questo vi salutiamo alla prossima ciao a tutti e grazie i nostri ospiti grazie a voi ciao